Questo dobbiamo portarlo sempre in memoria. Gesù prega per me. Sta pregando adesso davanti al Padre e le fa vedere le piaghe che le ha portate con sé per far vedere al Padre il prezzo della nostra salvezza. L'amore che ci tiene. Ma in questo momento, ognuno di noi pensi in questo momento, Gesù sta pregando per me? Sì. Questa è una sicurezza grande che noi dobbiamo avere. Fate questo esercizio di memoria, di ripetere questo. Quando c'è qualche difficoltà, quando siete in orbita delle distrazioni, Gesù sta pregando per me. Ma Padre, questo è vero. È vero, lo ha detto Lui stesso. Non dimentichiamo che quello che sostiene ognuno di noi nella vita è la preghiera di Gesù per ognuno di noi, con nome e cognome, davanti al Padre, facendole vedere le piaghe che sono il prezzo della nostra salvezza. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.